Una solennità ambrosiana Il triduo della Santa Croce è una ricorrenza liturgica propria della Chiesa di Milano. Si svolge ogni anno nel Duomo dal sabato pomeriggio all'unidì sera della seconda domenica di settembre. È una solennità sempre accolta da molta popolarità poiché in essa avviene il rito della nivola. Termine dialettale che traduce nuvola è una specie di navicella tondeggiante pare ideata da Leonardo che riproduce appunto una nuvola che sale fino alla sommità dell'abside dove in un tabernacolo è custodito il Santo Chiodo. La nivola porta l'arcivescovo o un suo rappresentante fino alla custodia della Santa Reliquia sempre illuminata da una grossa lampada rossa durante tutto l'anno. Il Santo Chiodo viene collocato in una croce preziosa davanti all'altare maggiore dove rimane esposta alla venerazione dei fedeli. Mentre la nivola sale e poi scende, l'assemblea accompagna il rito ascoltando brani del Vangelo, della Passione e canti eseguiti dalla cappella musicale del Duomo. La lentezza del movimento prolunga il tempo nella meditazione e nella preghiera. Ad una comprensibile curiosità non deve quindi mancare un raccoglimento che favorisca l'incontro con il Signore crocifisso richiamato alla mente e al cuore dall'antica reliquia del Santo Chiodo da sedici secoli venerato nella Chiesa milanese. La lentezza del movimento prolunga il 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 movimento Grazie per la visione!